Ok, parlerò solo delle forme croniche, cioè delle vulvovaginite di tipo candidosico, quindi micotico, croniche e anche delle forme batteriche oppure di tipo urinario, ma croniche. Perché le forme acute si calcola che praticamente statisticamente si dice che 7,5 donne su 10 nella vita ne provano una. Vorrei visitarlo 0,5, sempre per ragionamento dei polli, quanti mangiano 10 polli realmente in un anno, però comunque per intendere che sono di appannaggio del medico di base, del ginecologo, insomma, ma non rappresentano di solito un problema. Allora, invece una cosa importante, si è sempre detto questo, le vulvovaginite da candida sono dell'età fertile, invece le forme batteriche, siano esse a carico dell'apparato urinario che vaginale, sono del periodo pre-fertile e poi meno pausa. Purtroppo è una cosa che adesso non si verifica più. Io nel mio studio vedo tantissime donne che collezionano l'uno l'altro in maniera indiscriminata e poi cercheremo anche di capire il perché e spero di darvi gli strumenti anche per capire la motivazione. Non è per farvi una lezione didattica, ma è per farvi capire fondamentalmente quali sono gli strumenti che poi utilizzo io per curare questo tipo di patologia. Quindi, e tra l'altro, questa roba qua è traslabile sia in campo dermatologico, in campo urologico, in campo proctologico, perché i principi sono sempre gli stessi, quindi chiunque ci sia qua dentro può poi utilizzarla nel suo studio. Che cosa utilizziamo noi di fatto? Questo che vi ho rappresentato, immaginate che sia la vagina, che poi rappresenta, se vogliamo, tutte le superfici esposte del nostro corpo, cioè la pelle, il retto, tutto l'apparato digerente, la bocca e via via dicendo. Gli strumenti che utilizziamo per difenderci sono sempre gli stessi. Che cosa? Una mucosa puristratificata, vedete, il muco, il sistema immunitario, il microbiota naturalmente ed il pH. Allora, per quanto riguarda l'esterno, tutto quello che è rivolto all'esterno è a pH acido. È la nostra strategia più importante per evitare che si diffondano i batteri. I batteri e il pH acido non stanno bene. Purtroppo vedremo che la candida sì. E questo è già un primo problema. Una cosa importante, chi è che determina un pH acido a livello di quasi tutti i distretti? Lato bacilli. Noi abbiamo circa una decina di lato bacilli che sono distribuiti poi in aree diverse e quindi sono diversi serotipi. Non tutti sono lattico produttore, ma quella è una particolarità che non c'entra. Che cosa mette in campo in particolare la vagina è la sua estrogenosensibilità. Quindi qui abbiamo un alto valore aggiunto che è dato dagli estrogeni che fanno accumulare in maniera importante il glicogeno, che è il substrato che utilizzano poi i lato bacilli in fermentazione per dare poi l'acidità. E quindi questo ci fa capire che cosa? Che di fatto cambia il pH vaginale in base all'età della donna. E allora, visto che abbiamo detto prima che la candida vuole un pH acido, capiamo come mai? Di solito e normalmente io ho le candidosi in età fertile e invece ho le vulvovaginiti e le cistiti batteriche in età preferite, cioè nella bambina e nella menopausa. Perché ho meno estrogeni, ho meno glicogeno, quindi faccio meno acido lattico e quindi ho un pH lievemente aumentato. Quindi aumentare lievemente il pH vuol dire che i batteri partono in replicazione, mentre la candida non si trova più bene. Ma si capisce anche come mai la donna ti dica, non durante le mestruazioni, ma prima delle mestruazioni, saltano fuori di nuovo nelle forme recidivanti gli attacchi acuti di candida e anche in fase provolatoria. Ma perché? Perché il sangue è basico, il mucca è basico e quindi mi inibisce la replicazione della candida. Quindi ho dei momenti specifici. Ma capisco anche perché se do a una donna che magari non ha particolarmente sofferto di candidosi un estropogestinico, cominciano ad avere la candida. E allora di queste cose dobbiamo tenerne conto, perché se mi arriva una donna in menopausa che sta facendo una terapia sostitutiva e ha delle candidosi, io quella roba lì gliela devo togliere e devo cambiare anche il sistema contraccettivo, se no non ce ne salto fuori. Quindi queste informazioni mi servono a scopo prettamente pratico. Poi, perché gli estrogeni favoriscono la candida? In realtà sono più di un meccanismo, c'è un discorso di glicogeno, del fatto che favoriscono l'adesione, diciamo così, del micete alla mucosa, del fatto anche che favoriscono la trasformazione da forma sporigene in forma invece penetrante. Poi abbiamo il discorso della pluristratificazione. Ok, questo è un sistema che usano tutte le superfici esterne, più o meno keratinizzate, non ha alcuna importanza. Guardate un po', questo è un epiteglio di una donna in età fertile, sono 20 strati di cellule, è evidente che qua un batterio, prima che arrivi alla membrana basale ad invadere la circolazione ematica, ce ne vuole, è un po' come dire di quella fortezza, io ho delle pareti spesse 6 metri, gli assalitori non entrano più. Ma questa invece è la mucosa di una donna in età menopausale, sono 8-10 gli strati, ecco perché i batteri riescono ad entrare e allora si capisce già la differenza delle manifestazioni. Ma c'è un problema, la candida, abbiamo visto prima che si avvantaggia del pH acido, ma si avvantaggia anche della pluristratificazione della mucosa, perché si comporta come un'edera. E si capisce anche come mai, per quanto il ginecologo o il medico di base insista nel davi l'acido borico piuttosto che un azolico inserito con un suppositore locale, non funzioni a un pifero, perché è come se io andassi a strappare di fatto le foglie di quell'edera, ma i fittoni che vedete qui in questa immagine al microscopio elettronico penetrano dentro la mucosa e da lì vi riparte la candida. Su quella roba lì l'azione locale dei disinfettanti, antibiotici o quello che volete non ha nessun effetto, ecco perché resiste. Per cui dobbiamo utilizzare altre strategie, ecco perché vi ho fatto tutta questa solfa, per arrivare alle mie strategie poi. Poi abbiamo detto microbiota, beh sulla importanza del microbiota per combattere la malattia ormai direi che la letteratura si sia prodotta abbondantemente. Quello che abbiamo scoperto però nel 2010 sono state cose molto interessanti. Innanzitutto sappiamo tutti che invagina la difesa data dall'attobacilo, ce ne sono diversi tipi, ok, e quindi è l'APH che questo determina. Perfetto, una cosa importante, importantissima. Nei distretti periferici la difesa è data in mano ad una persona super specializzata e quindi la flora microbica locale, che sia la pelle, che sia la bocca, che sia l'apparato respiratorio, ha una biodiversità bassa. È come se io mettessi sulle mura di quella fortezza che vi ho fatto vedere, il cararmato, l'uomo a cavallo. Io ho bisogno di arcieri, ho bisogno che ci siano più arcieri possibili perché lì loro lavorano bene e in questo caso sono i lattobacilli. Voi calcolate che al termine della gravidanza la flora batterica che normalmente in una donna che non è in gravidanza è costituita per il 50% dei lattobacilli diventano il 90%, in alcuni casi sono trovati il 99% dei lattobacilli. Perché? Perché devono difendere una cosa molto importante, il feto. Ma non solo, c'è anche un altro aspetto, devono dargli quell'attobacilli lì. Perché non pensate che la digestione del latte venga con sta benedetta lattasi. Ce n'è poca, anche nel bambino di due anni. Poi, dopo di che viene persa, è data l'attobacilli. Perché improvvisamente uno di 30 anni diventa intollerante al latte? Perché non ha più i lattobacilli che glielo digeriscono? Non c'entra niente la lattasi. Quindi la mamma, nel passaggio del canale dal parto, deve passare un casino di lattobacilli. E che cosa si è visto? Che è così bello il nostro sistema, che le plasmacellule che normalmente pigliano il microbo che entra, lo portano, fanno finta di niente, lo portano all'infonodo, lo fanno processare e praticamente è un po' come la polizia, sottomentite spoglie e poi lì lo processano, lo ammazzano. Benissimo. In età, invece, diciamo durante l'allattamento, la plasmacellula prende il microbiota e in particolare l'attobacilli, bistobatteri, non li porta all'infonodo, li porta direttamente alla mammella. Tutto quello che io ho nell'intestino della mamma deve passare attraverso il latte. E devono passare anche batteri cattivi, passano anche i proteobatteri, perché il bambino deve essere infiammato e tutto quello che mangia deve essere obesizzante. Questo è un concetto fondamentale, che parte dall'ultimo trimestre dell'intestino della mamma e poi si proietta anche sul bambino. Allora, che cosa fanno i lattobacilli? Sono utilissimi, abbiamo visto per il pH, ok, ma fanno anche altre cose. Infatti non sono tutti produttori di acido lattico, producono batteri cine, producono perossido di idrogeno, hanno un effetto anti-aggregazione, o meglio anti-adesione, diciamo, del microrganismo patogeno. Ma la cosa interessante poi sono gli studi, questi è Fornè, ma poi ci sono gli studi di Zu, che è uno starnuto, ma è uno che ha scritto parecchia roba su sta roba qua, e comunque hanno scoperto che esistono, per il momento, e poi andranno avanti le ricerche, cinque vaginotipi. Perché è importante? Perché vediamo che alcuni di questi sono particolarmente sfortunati. Allora, nel vaginotipo tipo 1 noi abbiamo una dominanza di crispatus a un lattobacillo, nel 2 il gassere, nel 3 l'iners, nel 4 non c'è una dominanza lattobacillare, nel 5 abbiamo il genseni. Ora, a cosa corrisponde fondamentalmente? Se vi facessi vedere i lavori, nel primo, il crispatus, abbiamo il pH più favorevole per evitare le infezioni batteriche, il 4 addirittura, mentre abbiamo un pH più alto nel vaginotipo 4, dove non abbiamo una protezione lattobacillare. Dopodiché, i lavori, sia precedenti che successivi, hanno confermato un dato interessante, che a seconda dell'etnia a cui apparteniamo, abbiamo più o meno facilità ad avere un tipo di vaginotipo. Eccolo qua, vedete? Noi donne caucasico-bianche abbiamo esattamente quasi la metà protetta da una flora lattobacillare di tipo crispatus 1, invece le asiatiche hanno il 3, cioè l'iners, mentre ad esempio le ispaniche e le nere non hanno una protezione per la metà di loro di tipo lattobacillare. Al che, se poi sommiamo tutte comunque le lattobacillare, diciamo, nella popolazione asiatica abbiamo che l'80% sono protette da una flora lattobacillare, il 90% delle caucasi, che noi siamo fra le più fortunate, mentre la metà delle ispaniche e delle nere non hanno una protezione lattobacillare. Allora è che hanno cominciato, naturalmente, gli autori, gli stessi, che hanno trovato questi vaginotipi, a fustigarsi, a dire no, ma abbiamo sbagliato, dobbiamo essere politicamente corretti, andiamo a vedere, ma comunque il pH è acido, forse ci sono altri meccanismi che inducono il pH, ma non è possibile, non possiamo pensare che siano patologiche il 50% della popolazione di queste razze. Dopodiché, in realtà, è il risultato che è proprio così. Allora, se voi vedete in alto, poi non è difficile, questo qua è un crispatus e questo è un iners. Questi, diciamo, conetti capovolti che vedete, sono i momenti in cui, e c'è il corrispondente, vedete, score di Nugget, che noi utilizziamo come valutazione patologica di una situazione vaginale e pH. Vedete, qui c'è un conetto in giù. Perché? Perché qui abbiamo dei Nugget score e del pH patologici. Perché? Perché lì abbiamo l'ovulazione e la mestruazione. Abbiamo detto che sono due momenti in cui il pH si innalza. La stessa cosa di là, poi, nelle iners. Guardate che disastro queste donne, che appartengono al vergino tipo 4. La stabilità la vedete sotto dai testi Nugget. Eccoli qua, un disastro. Allora, non contenti, poi sono andati avanti, hanno fatto altri lavori, anche questo qua è bellissimo. Queste sono donne crispatus, queste sono donne iners, queste sono donne della categoria ispanica, cioè, diciamo, del gruppo vaginotipo 4. Guardate questi pallini, sono i Nugget score patologici. Un disastro. Queste qua hanno una situazione di instabilità via l'altra. In queste due donne iners ci erano stati questi due episodi, questa aveva preso un'antibiotica e qui c'era stato un rapporto sessuale. Perfetto. Quindi vuol dire che è vero, non è bello avere un vaginotipo di tipo 4. Ma allora vi porto ai nostri casi. Queste sono le donne caucasiche. Comunque il 10% di noi ha questo vaginotipo. E da lì si spiega anche la prevalenza delle sterilità e delle vaginosi. Perché poi i dati, bene o male, vanno a sovrapporsi. E allora entriamo in una questione molto importante. Perché in realtà poi qualcuno si è anche posto il problema di capire perché esistono questi vaginotipi, se sono così svantaggiosi. Allora lì sono stati inclusi i discorsi genetici, epigenetici, le abitudini sessuali, le abitudini igieniche e personali, nella contraccezione, ma naturalmente la fa da padrone per il discorso alimentare. Che fa sì che il microbiota sia diverso anche nelle nostre popolazioni mondiali, poi fondamentalmente. Allora, che cosa si è visto? Nei soggetti con vaginotipo 4 c'è una alta prevalenza di prevotella. Ora, la prevotella non è, per chi si occupa di microbiota, un microbiota particolarmente favorevole. Forse voi tutti conoscete il lavoro del 2011 sul network con Parve per la prima volta la distinzione fra i vari vaginotipi, quello bacteroides, che è prevalente nella nostra popolazione, poi abbiamo le prevotellacee e quelle che hanno il ruminococcus. Ruminococcus sono praticamente inesistenti da noi, si trovano in popolazioni tribali, anche certe forme di prevotellacee. Le prevotelle che trovate qua, se fate fare un test del microbiota, sappiate che non sono belle di solito. e a chi corrispondono vegane, vegetariane, crudiste e poi a chi ha patologie del cavo orale, perché se le ingoia. Allora, una cosa importante, a cosa è stato attribuito un eccesso di provotellacee? all'epatite steatosiche e anche all'ipertensione. Quindi non sono batteri che noi vorremmo avere, ma c'è anche un altro aspetto. La prevotella si sa che, siccome produce ammoniaca e aminoacidi, dà i substrati per la gardnerella, quindi si associa quasi sempre ad una situazione di vaginosi. Ma un'altra cosa vi voglio dire importante, questo vi apre anche un altro capitolo, soprattutto se ci sono dei ginecologhi in sala, riguardo qualcuno aveva parlato di placenta. Allora, ci sono dei bellissimi studi sulla microbiota placentare, che poi ha prodotto la Human Placenta Project in questi ultimi anni, in cui si dice che per sapere la salute placentare del microbiota, io devo vedere quella della bocca, perché è la fotocoppia. E infatti tanti lavori, ma anche in tempi non sospetti, dicevano guardate che se uno ha una parodontopatia ha uno rischio di parto fraternale molto alto. Ma perché? Perché di fatto abbiamo scoperto che di sterile non c'è niente, i nostri batteri se ne vanno a spasso nel nostro organismo in varie maniere, l'abbiamo visto prima con la mamma e la plasma cellula, eccetera. Quindi è un po' come l'up-down dei pullman turistici, qui mi piace, trovo una situazione analoga a quella da cui sono partita e guarda caso la placenta a 52 km di vasi. Quindi vuol dire un'iperossigenazione come quella della bocca e lì la prevotella ci sta da dio. Quindi attenzione, perché se io voglio una gravidanza, una gravida sana, prima cosa dal dentista. Ok? Questo è un dato importantissimo. Ma tra l'altro, una cosa importante, si è visto che c'è una sovrapposizione, se io faccio una fotografia di questo vaginotipo di tipo 4, rispetto a quello che ottengo se do azitonicina ad una donna. Quindi di solito gli antibiotici non creano una situazione microbica ottimale. Peraltro, tenete conto che si dice sempre un'inesattezza. Cioè si dice, ah ma l'antibiotico riduce la carica batterica in maniera specifica. Le mie vera. Riduce la biodiversità del 25-30%, ma normalmente ira meno del 40%. Quindi non è vero che mi riduce la carica batterica, però mi va a creare una microflora non positiva. Poi si è visto che questi soggetti sono più soggetti alla clamidia, su questo hanno fatto dei lavori. Adesso non vi entro un po' ve lo spiego. Insomma, il rapporto chinurenina-triptofano. Chinurenina è un metabolita del triptofano. Il triptofano ha un ruolo fondamentale nel sistema immunitario. Ecco perché la donna in gravidanza deve essere disbiotica, perché sennò mi rifiuta il bambino, mi fa partire una reazione contro il bambino. È una disbiosi fisiologica che ho anche in fase peri-ovulatoria e in fase premestuale-mestuale. Da lì la sindrome premestuale, non ho più serotonina, mi viene fuori dal triptofano, io devo buttarlo via il triptofano, disregolare il sistema immunitario, perché sennò io regisco contro lo sperma che è allogenico e contro il bambino che è semialogenico. HIV, ma questo più che altro nei vaginotipi 4 perché si parla di cluster infiammatorio e poi le infertilità idiopatiche. Il vaginotipo 4 è stato trovato in quasi tutte le pazienti che presentano infertilità di tipo idiopatico cosiddetto. Questi sono tutti lavori e non li ho neanche portati tutti, cioè sono cose di cui ormai si dovrebbe anche masticare un po' la materia. Questa signora qua sta facendo un contraccettivo senza usare gli ormoni modificando il microbiota. Questo per dire che noi sappiamo benissimo che il microbiota è fondamentale per la fertilità. Non so se ci riuscirà ma i risultati sono abbastanza incoraggianti. Allora, rischio anche da un punto di vista ostetrico, parto pretermine che l'abbiamo visto prima, aborti precoci, quello della placenta l'ho già citato e poi la patologia tumorale. Se io mi infetto con un HPV perché alcuni danno tumori e altri no? Dipende poi dal substrato che io trovo fra cui microbiota, questo sicuramente. Quello che mi piace di questo articolo che vi ho portato è che si parla di dieta, dieta, si comincia a associare la salute della persona e del suo microbiota con la dieta e in questo caso si parla poi di tumori. Vi faccio vedere questa figura perché è evidente che questa è tutta un'area che la ragiona in un unico cervello ma vi faccio anche vedere questo per farvi vedere una cosa. I filum che sono 7-8 nel nostro organismo si ripetono cambieranno in composizione ma è sempre quel come si dice a casa mia. Quindi di fatto il fenomeno dell'updown che dicevo prima cioè della serie che bene o male se io ho una flora microbica anomale e patologica nell'intestino non può star bene né quella della vagina né quella dell'apparato respiratorio eccetera. E adesso che stanno studiando abbastanza quello dell'apparato respiratorio visto che è così c'è comunque una sovrapposizione. Il primo io sono andata su PubMed e ho detto ma chi è stato il primo a capire che c'è un reservoir intestinale di infezione da candido batterica è stato questo signore almeno quello che ho trovato io nel 1977 che ha fatto una cosa a prova di cretino è andato a prendere la candida dell'intestino e quella della vagina e ha detto ma va che sono uguali ne ha tipizzati cioè non ha fatto delle grandi cose da nobile però voglio dire lui almeno ci ha pensato il che non è male ecco perché oggi si parla di se ho vaginiti e cistiti ricorrenti io devo lavorare sull'intestino su questo non c'è nessun dubbio almeno non dovrebbe esserci nessun dubbio nella practice medica diciamo di questi ultimi anni si è parlato di assi intestino cuore intestino cervello intestino rene eccetera e naturalmente anche noi ci siamo fatti un bel assi intestino apparato genito urinario perché non eravamo certamente da meno ma attenzione non confondiamo le cose cioè nel senso che ok c'è un passaggio di batteri dall'intestino all'apparato vaginale o all'apparato urinario ma quello che fa l'intestino è molto di più perché mi va a rompere le scatole in tutto l'organismo e già mi regola il metabolismo le reazioni immunologiche l'endocrino mi fa un sacco di roba quindi non posso valutare soltanto per un discorso di contaminazione ma è ben molto più ampia la questione della salute intestinale e poi c'è tutto l'aspetto ipigenetico che ormai diciamo oggi è stato abbastanza scandagliato ecco che allora si parla di comorbinità ginecologiche fate l'anamnesi dei vostri pazienti perché una paziente che ha IBS sicuramente se gli fate l'anamnesi risulta che ha una disparionia che ha una vulvodinia che ha una vulvovaginia perché queste cose qua di solito vanno di pari passo perché ci sono delle situazioni che sottengono per cui l'intestino rompe le scatole all'apparato digerente e viceversa che sono di tipo microbiche naturalmente neurochimiche ormonali immunitarie muscolare meccaniche vascolari e già questa cosa qua io l'ho scoperta abbastanza di recente ma mi ha aperto un mondo perché io di donne con dolore pelvico cronico con cistita interstiziale con vulvodinia con disparionia ne vedo e spesso e volentieri le trovo in un quadro misto ma poi lo vedremo anche quando faremo la cistita interstiziale che cosa ho scoperto e questo non è l'unico meccanismo noi sappiamo che il macrofago romastocito uno viaggia l'altro è stanziale poi l'ho chiamato in maniera diversa a seconda dell'organo da glia kupfer langer quel che volete ma se si attiva uno ovunque esso sia come un network si attivano tutti un mastocito attivato cosa fa? mi produce NGF quindi mi fa produrre dei nervi quindi questi nervi nuovi non hanno più una funzione nocicettiva hanno una funzione neuropatica e mi scatenano delle sintomatologie dolorose della madonna come faccio ad attivare un macrofago? con il microbiota perfetto un microbiota instabile una situazione infiammatoria che parte più delle volte a livello intestinale epatico eccetera mi crea tutti questi disastri ecco perché c'è una comorbidità come dicevo prima poi ci sono aspetti endocrini o meglio neoendocrini comuni la serotonina tutte le donne sanno che prima delle mestruazioni non riesci ad andare di corpo neanche col cannone poi quando ti vengono le mestruazioni devi stare attaccata alla tazza del gabinetto sono gli ormoni femminili che interferescono sulla motilità intestinale ma è anche vero il contrario la serotonina la sindrome premestruale di cui vi dicevo e anche naturalmente tutti sanno la funzione della serotonina a livello intestinale sulla motilità intestinale e in primis naturalmente poi come antidepressivo sull'umore e sul controllo dell'alimentazione cioè sull'assunzione di cibo attenzione perché una dieta proteica mi fa calare la voglia di cibo perché mi fa aumentare la serotonina che ha un effetto sulla quindi è un po' complicata la questione ecco perché quando io voglio sapere se una terapia antidepressiva mi fa effetto cosa faccio aspetto sei settimane poi caprimo o meglio posso anche dirvelo subito si è visto no ve lo dico dopo la funzione dei farmaci e dei fitoterapici non avviene per la maggior parte attraverso la circolazione ma attraverso i microbiota è uscito un bellissimo articolo all'inizio della 2018 che tra l'altro ho ripostato nel nostro gruppo lavoro dove un quarto dei farmaci lasciamo perdere gli antibiotici che si sa agiscono attraverso il microbiota e sul microbiota quindi questa è una cosa molto importante poi vedremo anche sui fitoterapici gli ormoni sessuali non può gestirli bene un intestino che è malato e ha un ruolo fondamentale nel metabolismo perché tutti gli ormoni hanno un ricircolo enteroepatico questo lo diceva qualcun altro parlando dell'aspetto comunque della non tutti gli ormoni sono uguali sì stamattina allora che cosa vi porto vi porto solo tra articoli per non ossessionarvi ma quando una mia paziente mi dice che ha avuto una serie di fibroadenomio di fibromio tirini io tiro sulle orecchie perché io vado a fargli un'anamnesi intestinale spesso e volentieri io la trovo anomala questa situazione qua perché di fatto gli ormoni sessuali anche mi passano attraverso l'intestino attraverso la bile e poi in base alla flora che trovano vengono gestiti in maniera diversa queste hanno trovato una corrispondenza fra microflora e cataboliti urinari o fecali che io trovo quindi se io vado a riassorbire della roba che ha ancora un effetto estrogenico residuo beh ottengo uniprestogenismo relativo e quindi tutta la patologia ad essere correlata fibromi eccetera che dicevo prima quindi cosa mi aspetto di trovare ad esempio in una paziente che mi lamenta candidosi cronica a volte mi guardano per dire ma è un mago sa già i miei sintomi ma non sono un mago senza altro mi aspetto di avere una disbiosi di tipo fermentativo che sia una paziente estitica e che abbia una predilezione per gli zuccheri senza fargli un'anamnesi alimentare lo so già e se poi mi dice che è anche intollerante al nickel che lo quasi la conferma perché si libera moltissimo attraverso le infestazioni a candida intestino è un'intossicazione interna non ha una food sensitività alimentare quindi io devo andare a lavorare su queste pazienti assolutamente ecco allora perché io ho fatto il ragionamento di prima che poi vi rifarò come faccio a sospettare questi sintomi sono specifici assolutamente non voglio mica dire che dovete basarvi solo su quello le fecichiare posso anche avere un'insufficienza biliopancreatica non sono attenzione delle masse di micetia che me le rendono chiare perché la candida mi mangia l'acido glucuronico e non formo più stacobilina quindi dovrei vedere anche chiedere al paziente galleggiano le sue feci mi devo aiutare con tutte queste cose poi ti guardano male perché puoi chiedergli come fa l'amore con il suo marito ma se gli chiedi se galleggiano le feci ti guardano come se fossi una manieca sessuale comunque vabbè purito rettale che non è una caratteristica solo delle parassitosi ma è anche classica della candida tutte queste robe qua facciamo delle anamnesi un po' più accurate ma poi non ci si limita ai sintomi intestinali perché questo signore qua ha scritto questo best seller nel 1983 e non è stato il primo a parlare di Estesindrome ma se voi andate in America la conoscono tutti parlano di 84 milioni di americani con una Estesindrome da noi in Europa quasi non si sa cosa sia di fatto ma guardate tutti i sintomi che meraviglia vanno ben fuori dall'apparato geniturinario e anche da quell'intestinale e vi voglio fare questa indicazione qua ADHA e DSA e autismo perché gli ultimi lavori su queste cose qua ci raccontano delle cose interessanti non voglio dire che se voi andate a curare l'intestino curate un autismo e non andate in giro a dire che ho detto una cavolata del genere però sicuramente molti pazienti li vedete migliorare sensibilmente perché gli riducete di fatto dei batteri che vanno a rompergli le scatole e questo è vero ad esempio questa signora qua ha scoperto che hanno un biofilm molto più resistente nelle forme di autismo questi qua sono lavori recenti ad esempio guardate qua infestazioni da clostridio e da candida non hanno trovato un patter specifico nel bambino autistico però hanno trovato che comunque questa roba qua di solito c'è e c'è in eccesso e questa è una cosa che non va bene tanto che concludono poi dicendo curiamo l'alimentazione non ridaremo una normalità ma un miglioramento sicuramente sì e anche questo qua è interessante perché questo è un lavoro recente in cui hanno tipizzato il microbiota della placca salivare e hanno detto possiamo cominciare a pensare di utilizzarlo per fare diagnosi di autismo e non solo in base alla composizione probabilmente anche alla gravità di autismo quindi pensate un po' sempre al discorso del microbiota e agli scambi che avvengono fra i vari organi apparati il primo in realtà a parlare di infestazioni da candida fu sto qua Orion Trousse che ebbe la sfortuna di vivere nel periodo post inizio antibiotico vide delle forme di antibiotico sensibilità importanti allora insomma funzionava ancora bene gli arrivavano lui aveva addirittura attribuito vedete apprendimento autismo schizofrenia allora senza neanche sapere perché alla candida e li curava con liquido di lugo l'odoro di potassio e diceva funziona perché mi va a diminuire la candida pensate un po' ma perché la candida fa tutti questi disastri un motivo è questo guardate dove vanno a finire le ife intanto creano una stimolazione continua tanto che si dice nelle forme croniche perché io anche se faccio fare le colture sono spesso negative perché la carica di infettante è bassissima io uso lo speculum non trovate mica il micelio come nelle forme acute trovate una mucosa rossata magari delle vescicole delle erosioni assomiglia quasi quasi più ad una forma virale ma perché perché mi basta niente ma io ho un'iperstimolazione continua del sistema immunitario poi poi attraverso questi pedicelli cosa fa mi inietto un sacco di sostanze allora io vi faccio vedere questa diapositiva che peraltro questo lavoro l'ho raccolto da un anno e mezzo due fa magari è anche cambiato erano state isolate 4000 sostanze prodotte dal microbiota intestinale di cui 80 dalla candida beh non sono mica poche e tra l'altro si è anche visto una cosa che questa roba qua e tu dice vabbè ma tanto il cervello i sintomi non possono mica essere attribuiti e allora quest'altro lavoro dice guardate che circa un terzo di quel che circola non è di nostra derivazione ma deriva dai microbi quindi non possiamo ignorare queste cose qua che sono importanti e poi la candida mi dà delle interferenze metaboliche ed energetiche prima perché si magna lo zucchero e quindi non l'abbiamo più né noi né il microbiota e quindi non sta sicuramente bene e poi perché mi produce questo acido qua tartarico che vedete è molto simile a parte l'idrossile e mi va a inibire in pratica cioè rende inefficiente insomma diciamo così il ciclo di Krebs e quindi io cosa devo fare devo convertere il mio metabolismo verso un metabolismo di tipo anaerobico che mi rende molto meno e mi rende molto più acido allora qui si comprende un altro sintomo che è spesso stato descritto nel list cioè la stanchezza cronica perché io sono di fatto inacidosi e con un metabolismo che fa schifo poi l'altro motivo anche ad esempio dei sintomi che riguardano la scarsa attenzione a DHI eccetera al fenomeno che si dice dei effetti oringo eccolo qua questi sono globuli rossi che si impilano si agglutinano in presenza di candida quindi di fatto diventa funzionale soltanto questo e questo globulo rosso per portare in giro l'ossigeno ma sapete che uno dei lavori più belli che è uscito ultimamente che ha detto che non è più vero che abbiamo una cellula eucariotica contro 10 perché sono andate a ricontare le cellule eucariotiche hanno detto no ma ne abbiamo molte di più è quasi una a una fra microbiota e un lavoro adesso del 2018 ma cosa avevano sbagliato a contare i globuli rossi sono la popolazione più rappresentata nel nostro organismo il che ci fa pensare che l'ossigenazione sia la funzione più importante del nostro organismo è tutto quello che ha connesso questa roba qua allora diagnosi beh potete bizzarriarvi guardate ci sono le sonde qui c'è anche la ricerca dell'arabinitolo sugli urine la reattività alla candida potete fare tutto quello che volete tenendo conto che tutto è utile e tutto è inutile ad esempio una cultura positiva vi dice che la candida c'è ma è la causa una cultura negativa vi dice che non l'avete trovata ma non c'è quindi di fatto bisogna aiutarsi in varie maniere a volte anche facendo un banale pH se lo trovo un pH acido non è una vaginosia è una vaginite da candida quindi se ho un pH di 4 non mi pongo il problema che sia una gardnerella allora una cosa importante andiamo avanti se ce la fa ecco quindi l'anamnesi sicuramente perché è ginecologo meno cercate l'iperreatività del muscolo elevatore perché questa roba qua mi va a perpetrare e io posso fare tutto quello che voglio ma se io ho un ipertono del muscolo e che cosa me lo dice spesso l'anamnesi poi andate anche a cercare queste robe qua sono su internet ma se la paziente vi dice che ha male a defecare che ha una disparine superficiale soprattutto monolaterale non è profonda che mi fa pensare alle endometriosi se ha una cistite post-coitale andate a lavorare anche sul perineo se no non la risolvete ok e questo è un consiglio spassionato una cosa importante do questo farmaco tanto male non fa ok una volta i tipi di candida che potete trovare sono questi non li commentiamo ma quello che oggi vi faccio vedere che se prima quando mi sono specializzata in ginecologia nel 1990 eravamo più o meno 95 si diceva che quando anzi trovavo una candida strana io dovevo mandare di pressi a far fare una testa caricorale perché erano quasi sempre legate a un discorso di home alterato o di diabete conclamato beh ma adesso non è mica più così adesso le candide strane le trovate quasi nella metà dei casi e perché qualcuno ha detto perché noi abbiamo migliorato la diagnosi colpifero perché abbiamo ammazzato le candide che sono ancora azolico sensibili ma queste le abbiamo selezionate azolico insensibili allora queste tarivano che fanno un ciclo a mese di midazolico di iconazolo fluconazolo tutto quel che vuoi ma stanno peggiorando la loro situazione questo è molto importante quindi avete capito che lavoro sulla dieta perché penso che ci sia abbastanza capito poi ci si può aiutare tutto con tutto quello che vi può venire in mente da integratore cioè cosa serve tutto il resto ad aiutarvi o a sfiammare o a aumentare le difese immunitarie del soggetto oppure anche ad avere un effetto antibiotico minimo ma non così invasivo come può essere un azolico tutti conoscete la dieta anticandida la trovate su tutti i siti fondamentalmente che cosa è ve la spiego in poche parole è una dieta di tipo proteico è una paleodieta ma perché perché allora il principio qual è se io eccolo qua mi viene in aiuto sempre la famosa cosa se io voglio curare un'infezione e in questo caso voglio togliere dalle peste questo in realtà non è un castello ma è la sacra di San Michele comunque rende molto l'idea che cosa devo fare due cose mi serve per farvi capire i due punti su cui lavoro uno è rendere più efficace questa e far sì che non venga violata e quindi dovrei ispeciare i muri scavare il fosso se posso mettere più soldati sulle mura ma dall'altra parte devo affamare rendere difficile all'assediatore lo star lì di via il fiume porto via le capre del contadino le messi del contadino e non ha più cibo quindi io affamo la candida questo è il principio della dieta anticandida quindi creo delle condizioni per cui la candida che sta assediando questo povero castello se ne vada fuori amorevolmente dalle scatole questo è il principio ma attenzione l'altra cosa che devo fare è rendere ho detto più sicuro questo castello come faccio rendo l'intestino fondamentalmente in grado di autogestirsi quindi l'enterocita è in grado di fare più muco di mettere far bicarbonato e renderlo più basico l'intestino di stare meglio lui e lo faccio sempre attraverso la nutrizione ma perché sono impazzita io? no perché ci sono dei lavori science 2011 se io cambio l'alimentazione cambio il microbiota poi fino a lì perché quel ragionamento che hanno fatto loro sull'epigenetica che è molto vero cioè nel senso che attenzione io ho delle finestre di vulnerabilità quindi io ho dei momenti in cui posso incidere molto sull'epigenetica io ho dei momenti in cui posso incidere molto sul mio microbiota ed è il famoso natal core microbiota si è visto cosa che nei primi mele giorni io sviluppo un microbiota che sarà il mio compagno di vita hanno fatto degli esami sono andata a vedere il microbiota di cadaveri il 20% di questi è ancora quello che hanno dalla mamma e prevale quello materno c'è un'immagine bellissima di un articolo uscito abbastanza di recente dove si vede che il microbiota paterno vale come quello della babysitter quindi in questo vabbè poi non tutti sono concordi però nel momento in cui io risano il mio microbiota intestinale fa tutto il lavoro sporco da solo quindi io devo lavorare ecco perché le diete anticandida io le pratico fino a lì perché io tendo poi a fare anche ad allargare il ragionamento perché le diete di privazione non sono una cosa particolarmente intelligente e poi ne vedremo anche le conseguenze disbiosi infiammazione ok abbiamo parlato di disbiosi di tipo fermentativo una cosa io sento delle bestialità incredibili allora vagina e intestino sono mondo esterno quindi non mi venite a parlare di faccio bene se io alcalinizzo la persona me ne frega un pifero di quello che voi fate fuori dal periodo della candida io ho bisogno di avere un ambiente alcalino un po' alcalino perché la candida non sta bene in quella roba lì ma che cosa abbiamo noi abbiamo che le feci sono già tendenzialmente alcaline quando abbiamo le feci acide che sono quelle che poi di fatto mi fanno venire una candidosi intestinale che poi diventa un problema anche a livello volvovaginale eccolo qua ne abbiamo nell'infezione va bene il neonato ok nelle infezioni ma non ce ne frega niente nell'eccesso di fermentazione e sono di solito vegane che mangiano troppe verdure che pensano di essere molto sani perché mangiano solo verdure solo l'insalatina tu apri il loro frigorifero e facciano solo l'insalatina è vero e quindi bisogna stare attenti a questi eccessi perché tutto bisogna sempre farli in un equilibrio quando ho le feci alcaline quando ho un eccesso di ipotrefazione e quindi non dico che dovete sbilanciarle e farle venire una disbiosi ipotrefattiva ma diamogli un po' di proteine porca miseria ecco perché si parte dal principio della famosa dieta paleo che per alcuni diventa poi paleo autoimmune perché poi si fanno dei ragionamenti ma poi diventano di fatto delle questioni ecco qua questo è il lavoro sulla dieta allora tutti i celiaci diventano grati tutti no ma tanti e il ragionamento che si faceva era beh ma sì ma certo cominciano a sorbire tutto e quindi stanno meglio è un sintomo che si sta meglio e invece poi hanno cominciato a vedere che no però in grassantropolo hanno detto no ma forse la composizione di cibi schifosi che gli diamo pieni di edulcolanti che fanno aumentare i firmicutici dalle stelle oppure di zuccare per dargli un sapore no non è vero è che togliendo molte sostanze io vado a selezionare oppala vado a selezionare questi batteri qui bacteroides fragilis che aumenta l'obesità quindi questo se vale per la celiacchia vale per tutti se io non posso togliere a vita degli alimenti io devo ridare quegli alimenti le persone quindi il mio obiettivo non è solo affamare la candida ma è anche quello poi di ridare una normalità alla persona e lo faccio solo se riabilito l'intestino piano piano ma lo devo fare cibi vietati è evidente che siano tutti i carbidrati e i lieviti su questo non c'è dubbio poi ci sono gli alimenti in dubbio che sono tutti fermentati che si usano per riabilitare l'intestino ma su questi io si entra troppo nello specifico una cosa che devo fare spesso che è un po' sciocca vedo dare perché nella presunzione che la quinoa e la maranto siano cibi degli dei lo danno ma scusate ma noi non stiamo combattendo contro una intolleranza al glutine stiamo combattendo contro una roba che si mangia gli zuccheri questi sono amidi quindi questi devo toglierli ok all'inizio siamo sempre lì e poi c'è il discorso dell'uovo l'uovo è una cosa molto importante perché contiene la biotina che non solo ha effetti di tipo immunologico e quindi importanti ma attenzione perché ha effetti direttamente anticandida è la famosa vitamina 7 no b7 ma dove è contenuta nel tuorlo dell'uovo però purtroppo l'albume contiene la vidina quindi all'inizio è bene togliere almeno l'albume qualcuno toglie fra una paleo timune toglie anche le uova però comunque almeno togliamo l'albume questo sicuramente allora ci sono poi degli alimenti anticandide eccezionali l'olio di cocco lo rifilo a tutti per favore extravergine se no non andiamo bene poi l'olio extravergine di oliva anche questo e l'aglio crudo così come esistono anche altri terpenici e tanninici che mi servono poi posso modulare la risposta immunitaria e si usano tutte queste cose qua che naturalmente ti arrivano i pazienti che nessuno gliene ha mai valutate la vitamina biotina questo ve l'ho già detto andiamo a un ragionamento interessante io mi sto dilungando qua perché poi in realtà di cistine parleremo poco perché questi principi valgono perché sia una candidosi poi ci saranno le specifiche nel campo però sono ragionamenti generali che valgono per tutto allora fitoterapici sapete come li ha definiti fino adesso il mondo medico io sono medico quindi voglio dire farmacologicamente inerti perché perché se tu li vai a dosare sul sangue in gremia benissimo poi hanno aperto un portale bellissimo adesso mi ricordo un acronimo inglese dove si attaccavano farmacologi CTF eccetera e dicevano ma tu hai provato la daizeina la genisteina piuttosto che la curcumina ma io ho una azione ma il 50% ma perché sì ma perché no questi dati così facevano dire ma non funziona questa roba qua non ce l'ho nel sangue ho una variabilità tale che forse arriva da nessuna parte è solo un effetto placebo finalmente questo è un lavoro scaricato perché è importantissimo questi sono andati a dosarsi un sacco e a vedere verificare la funzione di un casino di fitoterapici sull'intestino l'azienda più grossa che è quella che poi fa il taxolo ha preso tutte le sostanze fitoterapiche e farmaci e sta valutandoli tutti rispetto alla funzione del microbiota è del 2008 e 2009 quando si diceva ma scusate ma gli psicofarmaci non escono dall'intestino e non arrivano oltre le barriere metencefaliche si è capito adesso cosa fanno vanno a modificare i famosi firmicutes ad esempio gli antidepressivi ecco perché si ingrassa durante la terapia e si diventa anche estitici allora quindi di fatto eccolo qua si passa tutta questa roba qua passa attraverso una normalizzazione del microbiota si spera adesso io non mi metto a fare tutta la storiella l'acido caprilico va benissimo lo pseudovintracolorato usate ognuno di voi usi le sue strategie poi funzionano tutte un po' bene con meccanismi diversi eccetera ma non voglio perdere tempo su questo ma mi preme di più perché io sono un po' più fissata sul microbiota nel dire tutti noi l'abbiamo usata come ipocolesterolemizzante dimagrante mi va la berberina mi va a regolare la risposta insulinica mi va a regolare i lipidi bellissime cose si dava nelle diarree infettive ma non si sa per perché ok adesso si comincia a capire perché e già perché si è visto che aumentano i bacteroides perfetto ah beh allora si comincia a capire mi aumentano il FIAF che sarebbe un fattore adiposo indotto dal digiuno quindi inducono dimagramento perché non sono più disponibili perché la lipoponte in lipasi viene inibita non sono più disponibili per la cellula adiposa i grassi che queste trasportano le particelle ematiche trasportano e poi i dulcis in fondo fanno aumentare la kermansia mucinifila ah beh questa sapete che ha due meccanismi fondamentali a parte mangiarsi bene il muco che è una cosa fondamentale perché altri si mangiano il muco ma parzialmente e fanno un disastro tipo alcune forme di proteobatteri ma questi se lo mangiano fino in fondo e fanno diventare bello spesso il muco ma poi producono una proteina che naturalmente poi quando trovano una cosa cercano subito di fare un farmaco che stanno cercando di fare un farmaco che si chiama l'AMUC 1000 questa proteina che deriva da e ha il nome della kermansia fondamentalmente va a legarsi al tolc recettore 2 e cosa fa? fa stringere le giunzioni strette rende ancora più impermeabile l'intestino quindi ha delle funzioni fondamentali è così importante sta kermansia su cui esistono tonnellate di lavoro attaccate a PubMed che un articolo non ha portato l'articolo perché non avevo tempo di cercarlo sono andati a stilare quello che fa aumentare la kermansia dicendo ma vedete un po' se riuscite a usarlo digiuno intermittente perché la kermansia ne frega niente se voi mangiate o meno lui mangia il muco lui va avanti che è un piacere quindi va benissimo anzi non ha i competitor che gli rompono le scatole dei colleghi amici la berberina la metformina si è capito perché la metformina funziona in una certa maniera poi a me non piace perché mi dà acidosi eccetera però comunque vabbè catecolamine gallate il famoso tè verde dimagramento e strati di rabarbera questi potete usarli caspita vi danno una mano mica male quello notturno praticamente no non c'è guarda non ho trovato un dosaggio standard in questi lavori quindi non posso rispondere ti inventerei fondamentalmente perché non ho trovato un dosaggio ho trovato questi effetti diciamo così genericamente espressi in quel lavoro che ti ho fatto vedere all'inizio ecco perché ho detto quello scaricatevelo perché c'è anche lì però non parlava di dosaggi quindi non posso risponderti certo quando parli con un ctf che ti dice di solito in fitoterapia tu prendi il bugiardino e moltiplica tre volte che è quello che faccio io ad esempio quando do la loidina ti scrivono due compresse al giorno io ne do due per tre al giorno perché se no non ottieni e per quello che poi tu trovi dei lavori io ho trovato un lavoro molto bello dove hanno confrontato la rifaximina con addirittura gli oli essenziali e hanno trovato un'efficacia del 46% degli oli essenziali contro il 33% della rifaximina però erano dati ad usaggi generosi poi uno può dire ma insomma sai sono un po' titubante perché sai che la dose tossica dell'olio essenziale è in alcuni casi un po' a cavallo della dose che tu utilizzi a livello terapeutico spesso sì è vero però ti dico non c'è non ti posso ancora dare una soluzione perché non l'ho trovata però diciamo che nei miei protocolli lo uso a dosaggi abbastanza alti poi curcuma stessa cosa tanti bei lavori tra l'altro ha fatto un lavoro recentemente molto bello su dei bambini IBD e gli hanno dato la curcuma e hanno ottenuto già una buona risposta peccato che non abbiano selezionato quelli in cui era utile darlo perché dico così? perché si capisce come mai in alcuni non funziona questa la curcuma mi aumenta il fecalibacterium prosnizzi che voi sapete che è un abutirato produttore ma se io non ho carenza di fecalibacterium prosnizzi non mi frega un cacchio di dare la curcuma quindi bisognerebbe in realtà conoscere un po' meglio il microbiotico il paziente per essere un po' più selettivo rispetto a quel che devo dare se no do a caso e poi vabbè posso anche fare una diagnosi ex juvantibus glielo do non funziona dopo due mesi dico ah proviamo quest'altra cosa come fanno i dermatologi quando c'è una macchietta che prima ti danno il cortisonico e poi l'antimicotico uguale va bene quindi va bene e funziona se noi sappiamo cosa stiamo facendo ok acidi bosuelici tutti noi li usiamo per le infezioni respiratorie giusto poi hanno cominciato a uscire i lavori sull'IBS le infiammazioni intestinali funziona come antinfiammator e certo inibisce la sintesi dei leocotrieni certo ma fa anche questo lavoro qua mi aumenta la lacnospira il ruminococcus tutti produttori di acido propionico e acido butirico caspita sono degli alleati fondamentali per il nostro intestino quindi sono oggi si capiscono molto molte più cose di quelle che si sapevano una volta grazie e chissà quando poi ne scopriamo ci ritroviamo qua fa due anni e ce ne raccontiamo di nuove allora proteobatteri se io trovo questi questo riguarda sia il discorso cistitico ma anche vulvovaginitico batterico ma anche intestinale ma arriva una micobiogramma con la presenza di questa roba qua alta ma cos'è che utilizziamo noi normalmente in campo urologico eccolo qua le proantocianidine e queste funzionano su tutta sta roba qua ma quale quella di tipo A attenzione che c'è la tipo B che la troviamo nella mela la mela quella napoletana la manurca che viene utilizzata per altri scorpi poi c'è direttamente la B2 che viene usata per pelle eccetera quindi ogni molecole poi a sé hanno fatto dei belori questo qua è un lavoro guardate nel 2015 hanno visto che cosa che a seconda del tipo di candida tu hai un'interferenza di questi oli essenziali diversi va a lavorare sull'idofobicità nei diversi ceppi di candida quindi alcuni addirittura fanno poi dei misturotti nel 2000 guardate qua c'è il no ho fatto qualcosa che non devo ecco questo qui ad esempio fa una miscela di iperico questo è l'anset 2000 e 91 sì 2000 scusa e 91 sono un po' fuori per sfruttare poi l'effetto antinfiammatorio di varie cose probiotici e perbiotici allora li vedo dare a casaccio sa diamo questo allora non è proprio così questi mi possono servire in fase acuta può essere un aiuto che io ho perché? perché introduco dei cattivoni allora qualcuno mi ha detto mi ha fatto questo paragone per farmi capire l'uso di questo che mi è piaciuto molto e ve lo ripropongo in una classe io ho il bullo il bullo andavo per le scatole quelli della classe se gli ruba la merenda però quel bullo lì mi serve anche a far sì che quando c'è la ricreazione il resto della scuola non rompa le scatole a quella classe quindi questi qua hanno il vantaggio che vanno là rompono le scatole anche alla candida ad esempio ma hanno il buon gusto di togliersi dalle palle alla svelta perché non è il loro mondo soprattutto saccharomicidi cerevisi che dopo 15 giorni non lo trovi più quindi io posso utilizzarlo ma questo è nella fase acuta ma per recolonizzare dovevo utilizzare altri sistemi questi sono i primi lavori del 96 in cui si usava lo yogurt non pastorizzato e si è visto che effettivamente diminuivano le vulvovaginiti batteriche le cistiti batteriche vi ho portato questi due lavori per farvi vedere una cosa allora qui di cosa si parla dopo 6 giorni ho una colonizzazione presi per bocca della vagina e poi 28-36 giorni dall'inizio del trattamento si ha una normalizzazione dei parametri cosa vuol dire che se io faccio una terapia di una settimana 10 giorni come vedo fare ma va bene va bene per mandare via la paziente felice voi siete felici anche voi ma non funziona non serve niente e i lavori fatti con i suppositori probiotici danno risultati abbastanza scarsi cioè mettere i probiotici direttamente in vagina è un po' una roba che non funziona perché c'è un flusso continuo ve li portano via subito questi poveri che vengono da allevamenti intensivi ma comunque belli del laboratorio si trovano a gareggiare con i vostri batteri che sono bei cattivi quindi voglio dire non gliene frega niente non riescono neanche a colonizzare si è visto che la colonizzazione ce l'ho se li prendo per bocca poi alcuni lavori dicono meglio se per bocca e insieme anche locali però almeno per bocca dovete darglieli e non per una settimana 10 giorni ma c'è un altro aspetto che vi faccio vedere in questo qua questo ve lo faccio vedere non per la combinazione in sé ma perché si parla di alcune settimane e di alcuni cicli mestruali poi spariscono quindi se io nel frattempo non lavoro sull'intestino non posso pensare di riabilitare un intestino o una vagina dando soltanto anche forse per tre mesi un probiotico chiaro? si è visto che dopo i trapianti di feci rimangono qualcuno diceva un mese gli ultimi lavori sono arrivati a due anni ma poi riparti da zero quindi sempre per la famosa stabilità del nato del coro macrobiotico dobbiamo lavorare anche su altri fonti se no non ce la caviamo allora e infatti questo dice non esiste ancora una sufficiente evidenza per raccomandare i probiotici come trattamento standard cioè io posso avvalermene li utilizzo anch'io ma non posso dirli cuo solo così perché non vado da nessuna parte allora ci sono varie questioni poi che si legano il probiotico questo per dire che adesso lo vedo anche vendere al supermercato noi diamo due o tre probiotici ragazzi ma ne abbiamo 1500 nell'intestino cosa ce ne facciamo? tra l'altro una cosa che avevo iniziato a dirvi e non vi ho detto la forza ho detto prima della periferia sta nella scarsa variabilità io ho bisogno di persone che con le frecce e l'arco stiano e sappiano far quello e colpire l'avversario ma a livello intestinale la forza è la biodiversità tutti i lavori che hanno cercato di fotografare il microbiota patologico non ci sono riusciti chi ha detto ma sì c'è una prevalenza a volte non so ma sì fuso bacterium del bambino ADHD ciclos 3 diocandida il bambino DSA eccetera però di fatto non sono mai riusciti a individuare un microbiota specifico ma tutti dicono una cosa manca la biodiversità ci si sta scannando se ma è il 15 il 20 il 30% di perdita di biodiversità cosa vuol dire perdere la biodiversità vuol dire perdere il 20 30% di microbioma di DNA non me ne frega niente dei batteri ma è quello che mi portano caspita questo è molto importante poi le loro azioni allora noi ripeto ne diamo pochi ma poi sono modulate sempre da quello che trovano da quello che noi mangiamo quindi non posso darglieli così e mandarlo a casa cioè ci vuole tutto un cambiamento di lifestyle del paziente non solo molti probiotici si è visto che non sono stabili geneticamente questo è un problema caspita altro che e poi il discorso della sopravvivenza e della durata che si è visto poi appunto i lavori di Schulz ti dicono dopo una settimana non c'è più un pifero di quello che prendi fra bocca quindi non possiamo affidarci a quella roba lì infatti i primi protocolli e non cito l'azienda parlavano di protocolli di settimane adesso per tutta la vita stiamo diventando rifaximinane omicina insieme ok allora quindi lavoriamo su queste cose qui che mi stabilizzano un intestino migliore probiotici ok micoterapia usatela se sapete usarlo qui abbiamo una ricchezza di beta glucani ma bisogna avvisare anche la paziente che potrebbe avere un peggioramento perché si liberano antigeni quindi ricordarsi che c'è questo aspetto sono estrogenodipendenti le candide quindi questa mi arriva con una pillola io devo cambiargli il sistema contracettivo dategli una monopillola dategli uno iud a seconda dell'età ragionate in base all'età della paziente idem per quanto riguarda le terapie sostitutive antibiotici allora arrivano fai una riabilitazione dopo due mesi ho avuto una ricaduta cosa ha fatto? ho un po' di tosse comincia a dire sei l'ora e il medico mi ha dato l'antibiotico allora se io faccio l'antibiotico guardate solo tre giorni triplica il rischio di candida un ciclo di antibiotico del 32% e allora io di solito chiedo sempre ma scusi che età? perché se mi dice 50 anni dico 5 giorni di tosse è impossibile tratenere anche 6 o 7 guardi perché poi quindi avvisate la paziente che deve essere collaborativa se non voi fate una roba e ne ottenete un'altra questo è un bambino che prende l'antibiotico perché la mamma ha una galazia e ne invagina guardate quanto tempo ci mette a ritornare normale 24 mesi se prende un macrolide nel primo anno sempre per quel discorso delle finestre di sensibilità per 4 anni ha dei problemi e questo è un lavoro molto bello che è saltato fuori per caso nel 1996 direi nell'Illinois spartita di latte contaminato con salmonelli indovinate un po' chi si è ammalato che aveva fatto nel mese precedente la terapia antibiotica stiamo parlando di adulti qua noi non abbiamo idea di quanto tempo per quanto tempo si trascini l'anomalia microbiotica dopo antibiotico-terapia posso risparmiarvi questo lavoro sul topino ma sappiate che se io do una dosi di streptomicina da milioni di salmonelli che devo utilizzare per sterminarli posso utilizzare serenamente una dieci salmonelle per ammazzarne metà e cento per ammazzarle tutte passiamo da milioni a unità allora quindi collaborazione cistiti abbiamo già detto più o meno la cosa fondamentale perché partono i batteri perché il pH viene ad aumentare perché ho meno estrogeni meno glicogeno meno lattobacilli e poi perché e attenzione vi ricordo che il trigono vescicale ha lo stesso origine e sensibilità estrogenica dell'apparato genitale perché ha la stessa origine umbriolale e quindi anche in questo caso comunque c'è sempre un reservare intestinale ma la stessa roba è la prostata ma perché gli ometti hanno tutti questi pochi di prostata e soprattutto quelli che stanno tanto seduti perché poi di fatto hanno un'alterazione della circolazione un aumento della temperatura una diminuzione del lato bacilli e che cosa succede che partono i proteobatteri scherichia colli in primis benissimo nella donna vanno verso la vagina di solito non trovano tanto da mangiare perché c'è molto zucchero non frega niente qualcuno si ferma ma sono di solito quelle donne che ti raccontano di vera secchezza vaginale durante il rapporto poi parte magari l'infezione vulva vaginale ma diventa una cistite nella donna perché e nell'uomo una prostatite perché ci sono le proteine sono proteobatteri mancano proteine quindi nella vagina non è che ne trovano tanti ma nell'urina e come e anche nella prostata ecco perché si localizzano lì ed ecco anche perché hanno cominciato a fare le selle con l'apertura le selle dei sellini sperando che non ci fosse un riscaldamento ma in realtà il riscaldamento c'è lo stesso non dipende dal sellino allora si è visto che le cistiti vengono tutte dall'intestino 80-85% dei schiarichi a coli quindi la regola generale è sempre quella lì non andiamo mica tanto lontano se non andiamo a lavorare poi qui anche qui possiamo usare tutti i fitoterapici riduciamo l'infiammazione riduciamo la carica aumentiamo le difese immunitarie l'unica cosa specifica che posso dirvi qua è il cranberry allora si discute sul dove perché funziona allora abbiamo visto le pro-antocianidine che mi vanno soprattutto a combattere i proteobatteri in maniera specifica ma anche perché voi sapete che ha quella forma per cui va a legarsi ai ligandi ad esempio dei schiacchiocoli impedendone di fatto l'adesione alla mucosa e poi invece è discusso se questo funzioni l'acido malico perché dovrebbe essere la componente acidificante molti autori dicono sull'acidificazione importanti in realtà molti contestano che effettivamente poi ci sia e invece il dimannosio si lega ad altri ligandi dell'escherichia colico perché qualcuno dice che bisognerebbe darli insieme attenzione che però se l'escherichia coli si è già legata alla mucosa della vescica non li staccate se date dimannosio cioè destromannosio ma neanche se gli date il cranberry quindi bisognerebbe farlo e ha più senso farlo in via preventiva poi in fase acuta lo puoi fare perché se si replicano intanto vai un po' chilar portare via ecco però per quanto riguarda il dimannosio eccolo qua se avete sospetto che si tratti di candida porca miseria uno zucchero non potete dargli questa roba qua fate peggiorare la paziente quindi selezionate quello che state facendo allora è anche qui è a mondo esterno se io voglio acidificare cosa faccio l'acidificante maggiore è più o meno contestato abbiamo già detto prima che è il succo di mirtilli ma le altre sono gli alimenti che hanno residuali di cloro di fosforo e di zolfo i proteici dovete dargli una dieta che abbia un equilibrio proteico non dico iperproteica ma almeno proteica poi probiotici c'è una marea di lavori bellissimi ma io posso solo utilizzarli se è coadio o una riabilitazione intestinale di tipo alimentare se no mi servono un pifero qui mi interessa farvi due o tre puntualizzazioni viene anche detta sindrome del dolore vescicale allora io tratto anche queste pazienti e mi sento dire dai miei colleghi che ho tratto pazienti avioprive nel senso che sono un po' così perché hanno altri problemi quindi non trattiamoli come pazze perché in realtà poi vedremo il motivo anche dei loro disagi non è un fatto infettivo quindi non posso trattarli con dei antibiotici e la cosa straordinaria che voi dovete ricordare che è il punto focale di quello che vi dirò si associa fibromialgia sindrome da affaticamento cronico tutte le malattie autoimmuno compreso la tiroidite di Hashimoto e endometriosi che di autoimmune proprio non è però ha alcune analogie anche qua questo è un primario di urologia che lo dice dobbiamo lavorare con i colpevoli che sono i batteri dell'intestino allora come mai infatti troviamo in letteratura eccola qua una forte correlazione fra cistita interstiziale e IBS ma guarda caso andiamo a vedere i lavori sull'IBS 81% di SIBO nei pazienti IBS quindi stiamo ancora e dobbiamo lavorare sull'intestino e come? allora non solo abbiamo visto prima che c'è una forte associazione con la fibromialgia perfetto andiamo a vedere la fibromialgia oppa la American College of Rheumatology cosa dice? che nel 100% di queste pazienti ha un disbiotest patologico beh allora bisogna andare a lavorare sull'intestino e come anche qua e siamo sempre alla conferma di questa roba qua una cosa o mai ho finito una cosa intestinale una cosa importante quello che accomuna tutta questa roba qua poi è un problema di dolore solo che è localizzato in aree diverse perché a livello del fibromialgico ce l'ha nei muscoli e nelle articolazioni a livello della cistita interstiziale ce l'ho a livello naturalmente della viscica dolore pelvico cronico che si associa più generalizzato nell'IBS io ce l'ho a livello intestinale e si sono andati a chiedere perché una teoria è quella della sensibilizzazione crociata neuronale a livello del midollo e centrale un'altra questione è quella dell'infiammazione che porta a modificazioni neuronali centrali e periferiche e a una disregolazione dell'asse ipotale in ipofisi su rene un'altra è l'LPS mi accelera il transito intestinale ma mi fa anche venire dei crampi e poi cosa fa? guardate in questo bellissimo modello che hanno fatto l'ipersensibilità riscerale sugli animali questa è l'LPS benissimo e poi il mastocito l'abbiamo visto prima quando c'è infiammazione c'è NGF e quindi c'è una neurosintesi queste pazienti poi hanno questo problema di ansia e depressione che appunto il mio collega la definisce avvio breva ma in realtà attenzione si non farò così il fantasi del termine in realtà ci sono delle ragioni di questa associazione di alterazioni ed è l'LPS che attraverso le reazioni immunitarie mi dà tutta questa sintomatologia centrale oltre a fare un discorso di serotonine bla 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 quindi SIBO traslocazione batterica attivazione immunitaria eccola qua indottosieme batterica queste non sono mie questo è un lavoro internazionale che mi spiace che non ho portato perché non ho fatto in tempo cistita intestiziale fibromialgia eccetera stiamo parlando comunque di intestino quindi come faccio poi ad andare a lavorare d'altra parte è il primo passo non c'è una cura devo lavorare sul lifestyle quindi l'approccio terapeutico è quello poi è chiaro che sono state si attuano anche tante altre cose cioè nel senso fanno instillazioni fanno idrodilatazioni si fa fare la ginnastica vescicale le tecniche di kegel usiamo tutte le cose fisiologiche quello che a me piace meno è quando io vedo fare questa roba qua pentosano polisolfato sodico è l'unico farmaco accettato in pontuario per la cistita intestiziale però io adesso vi faccio vedere gli effetti collaterali non è non mi piace a me personalmente questa roba qua poi non piace l'acido alfa lipoico può essere utile invece sempre per un discorso di terminazioni nervose e con questo ho cercato di andare veloce ma entro nel limite grazie complimenti abbiamo ulteriormente capito che l'intestino è proprio non il secondo cervello ma il primo il primo cervello volevo fare una domanda è Monica ecco cosa fra l'alimentazione comune che mediamente nella popolazione quali sarebbero gli alimenti che tendono perché c'è un legame molto stretto tra microbiota intestinale leaky gut syndrome e quindi un problema che riguarda e quindi alcuni alimenti che possono aumentare in termini percentuali la manifestazione della leaky gut che poi comporta tutte le conseguenze possibili immaginabili riduzione anche dell'acido butirico produzione dell'acido butirico quindi importanza sul sito immunitario come modulo regolatore bla 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 e tutto quello che ci viene dietro per cui come linee guida generali senza entrare nello specifico quali sono gli alimenti che dovrebbero favorire un mantenimento di quello che è l'equilibrio del microbiota e quali invece lo tendono a sfavorire allora non parliamo quindi di pazienti già malati perché li bisogna andare su una roba un po' particolare e potremmo stare qui un'ora se vi parlassi solo delle diete che hanno inventato per la riabilitazione intestinale ma non entriamo nel merito allora sicuramente quello che vedo io nella mia practice è un eccesso di carboidrati poi lasciamo perdere che io considero addirittura non commestibile tutto quello che l'industria alimentare ci propone quindi quello già io lo scarto a priori però sicuramente c'è un eccesso di carboidrati e una mancanza di grassi perché a differenza di quello che si va a dire in giro nei consensi cardiologici eccetera io di grassi ne do ne do e come perché mi servono allora uno dei principi su cui mi muovo è quello della dieta chetogenica e quando parlo di dieta chetogenica per favore non confondiamo con quella che danno i personal trainer che dà una dieta in qualche maniera un po' proteica di io per andare poi a cercare che torni nelle urine allora quelle diete lì si è scoperto che perché funzionavano anche perché davano una grossa riabilitazione intestinale dei pazienti epilettici che sono nati su quelle io vi dico solamente che adesso stanno facendo una sperimentazione fra l'università di Boston e quella credo di Miami su pazienti oncologici gli stanno dando diete chetogeniche all'80% di calorie assunte dai grassi perché in un mondo dove abbiamo privato tutto di grassi è diventato un disastro cioè di fatto l'uomo noi lo consideriamo bifuel cioè ha due sistemi per andare a tirare fuori l'energia uno è quello delle fibre perché ci comportiamo ancora da vegetariani fondamentalmente e quelle dobbiamo mangiare ne mangiamo sempre poche troppo poche anche perché poi il grosso della trasformazione in acido boterico ce l'ho nel colon quindi ne mangio poco me lo usa il teno e arriva un pifero il colon tant'è che si sono inventati l'amido refrattario cosa vuol dire il vecchio pane duro dei nostri nonni perché perché quell'amido lì così bello incespicato non viene digerito a livello teltenue e arriva al colon allora dice vabbè almeno tu non mangi verdura almeno ti do questo qualcosa arriva a sto benedetto colon poi l'altra maniera che abbiamo noi di tirare fuori l'acido buttire con l'energia è dei grassi come i carnivori se io guardo come predo un carnivoro mi va a mangiare il fegato mi va a mangiare l'interiore non va a mangiare il filetto anzi quello se lo mangio lo mangio in seconda istanza quando se lo sono predigerito i batteri quindi mangio una sostanza un po' particolare allora quello che è importante fare è ridurre un po' ma non vuol dire togliere attenzione perché anche le diete prive di carboidrati sono una follia quindi però quando uno poi va a vedere le quantità si rende conto ne mangia veramente troppo e mangia poche proteine cosa diventa importante quando tu quindi prendi in gestione questi pazienti raccontagli che qualunque sia l'alimento che decino di prendere è fondamentale la qualità di quell'alimento tanto più quando tu dai delle proteine animali quindi l'origine è fondamentale niente di allevato intensivo possibilmente grass feed però meno biologico perché diventa importante controllare l'origine perché possono essere contaminati in maniera pesante da estrogeni eccetera eccetera quindi questo è senz'altro vero però quello su cui ci si sbaglia secondo me è semplicemente le proporzioni quando io faccio vedere alle pazienti come devono mangiare io utilizzo spesso i piatti di derivazione della cucina orientale dove non c'è il bisteccone da 500 grammi ma io ho quei piatti composti dove ho un po' di verdure un pochino di pesce un pochino di ca pochino non vuol dire un etto di roba un pochino perché le proteine poi le possono anche andare a derivare dai semi oleosi dalla frutta secca da tante cose quindi non c'è il cibo a parte quello industriale veleno ma è veleno in modo di produrlo quindi la qualità del cibo che io mangio la composizione di quello che io faccio e le quantità quindi è difficile per me rispondere dovrei più che altro farti vedere delle diapositive che mi servono proprio perché il paziente di solito quando le vede comincia a capire cosa intendo per mangiare proteine e non vuol dire che ci devi infilare un pollo tutte le volte come fa il culturista non è quello il punto so sta perfetto ciao